... partire senza l'uso, l'utilizzazione dei blocchi di partenza e questo ha fatto sì che siano stati staccati i blocchi di partenza dal collegamento elettrico con la pistola proprio per non favorire eccessivamente lo scosso ecco sono partiti in questo momento, Menea è sulla linea dei pretendenti Rai è attualmente leggero margine di vantaggio però rimonta Menea, rimonta Menea, 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 Menea vince Menea, vince davanti a Ignatienko che è secondo, alza le braccia al cielo 10.26 il risultato cronometrico